Per definire l'antispecismo potrebbe essere essenziale riuscire a comprendere il significato e gli effetti sulla nostra vita dell'ideologia dominante che ha influenzato l'evoluzione umana nel passaggio storico e antropologico che da un mondo ricco di vita e di spirito la condusse ad abbracciare la biocultura, la domesticazione degli animali. Quella cruciale transizione trasformò l'economia di raccolta in quella agraria e di sfruttamento sistematico del suolo ad opera dei nostri antenati avvenuta 10.000 anni fa. Lo specismo ha caratterizzato l'organizzazione sociale umana forzandone lo svolgersi su dei rigidi valori gerarchici sin da allora, in feroce contrapposizione con il nostro approccio alla natura. La lotta per vivere, il modo con cui uomini e animali si adattano all'ambiente, appunto il nostro approccio alla natura, è stato utilizzato in modo ambiguo e polivalente ad indicare sia lo studio della natura che l'approccio interessato alla natura, incluso l'accostamento ad un modo di vivere compatibile ad essa. La perdita di questo rapporto, del rapporto tra le creature viventi e il territorio che le accoglie, che abbiamo osservato nel corso dell'evoluzione della società, sembra oramai un processo inarrestabile. Tale processo si è caratterizzato in modo diverso a seconda del contesto e in diversi momenti storici. Di sicuro, ad ogni passaggio, questo processo ha prodotto cambiamenti impressionanti tal che il pianeta è messo a rischio dai comportamenti e dalle trasformazioni derivanti dall'attività dell'umano. La trasformazione dei corpi degli animali, inclusi gli esseri umani, la modificazione degli ecosistemi che accolgono il mondo vivente in beni mobili, è una condizione essenziale per il funzionamento dell'attuale sistema sociopolitico. Tale attività esige e giustifica attraverso l'ideologia del dominio sulla natura lo specismo, ovvero la pretesa superiorità della specie umana sull'universo. Chi si oppone a tale pretesa superiorità si rifà all'antispecismo, quel movimento filosofico, politico e culturale che lotta contro l'antropocentrismo e l'ideologia del dominio veicolata dalla società umana. L'idea che l'umano possa disporre a proprio piacimento di ogni altro essere vivente è profondamente radicata. Da tempo però è in atto una lotta affinché gli interessi primari degli umani e degli altri animali vengano posti sullo stesso piano in nome di un ideale di uguaglianza tra gli individui. Coloro che si oppongono alle teorie e alle pratiche che riconoscono esclusivamente gli interessi dell'umano definiscono specismo l'atteggiamento di pregiudiziale negazione o disattenzione degli interessi degli altri animali. Le persone che lottano per l'abbattimento del pregiudizio antropocentrico e per un mondo in cui i rapporti tra le specie possono essere liberi e ispirati a principi di uguaglianza e di solidarietà si definiscono perciò antispecisti. Il concetto di specismo, elaborato esplicitamente verso la fine degli anni Sessanta nell'ambito della filosofia morale anglosassone, è però il risultato di una lunga storia. Esso infatti ha alle spalle generazioni di animalisti che hanno cercato, a partire da tradizioni e impostazioni diverse, di denunciare la violenza della specie umana verso gli altri animali. Lo specismo è una filosofia antropocentrica nella concezione degli animali e tale termine fu usato per la prima volta dallo psicologo inglese Richard Ryder nel 1970 per riferirsi alla convinzione che gli umani godano di uno status morale superiore e quindi di maggiori diritti rispetto agli altri animali. L'intento di Ryder consisteva nell'evidenziare le analogie fra lo specismo e il razzismo, dimostrando che le argomentazioni filosofiche per condannare queste due posizioni sono affini. Il termine specismo viene usato comunemente nella letteratura sui diritti animali, in particolare nelle opere di Peter Singer e di Tom Reagan, i due più noti divulgatori di questa filosofia. Come l'antirazzismo rifiuta la discriminazione arbitraria basata sulla presunzione dell'esistenza di razze umane e l'antisessismo respinge la discriminazione basata sul sesso, così l'antispecismo respinge la discriminazione basata sulle specie e sostiene che l'appartenenza biologica alla specie umana non giustifica moralmente o eticamente il diritto di disporre della vita, della libertà e del lavoro di un essere senziente di un'altra specie. Gli antispecisti lottano affinché le esigenze primarie degli animali siano considerate fondamentali tanto quanto quelle degli umani, cercando di destrutturare e ricostruire la società umana in base a criteri sensiocentrici ed ecocentrici che non causino sofferenze evitabili alle specie viventi e al pianeta. Noi crediamo che le capacità di sentire, di provare piacere e dolore, di interagire con l'esterno, di manifestare una volontà, di intrattenere rapporti sociali, in altre parole, di essere soggetti di una vita, non sono prerogative esclusive della specie umana. Noi crediamo che l'esistenza di tali capacità negli altri animali conferisca a loro uno status etico, facendoli divenire persone non umane e quindi moralmente tali. Noi crediamo che l'esistenza di tali capacità negli altri animali conferisca loro uno status etico, facendoli divenire persone non umane e quindi moralmente tali. Da questo consegue la necessità di operare una trasformazione profonda dei rapporti tra persone umane e persone non umane, una trasformazione che prefiguri un radicale ripensamento e un conseguente cambiamento della società umana per l'ottenimento della liberazione animale. L'antispecismo, in quanto movimento filosofico, politico e culturale, si adopera per la diffusione dei suoi assunti nella società. L'antispecista si propone quindi di assumere atteggiamenti e comportamenti tali da poter influenzare la società umana e quindi si attiva tramite iniziative culturali, sociali e personali per il raggiungimento di uno scopo ultimo. Il nostro scopo è quello della creazione di una nuova società umana, più giusta, solidale, orizzontale, libera e compassionevole. Una società definita aspecista, vale a dire una società senza distinzioni e discriminazioni di specie. L'attivista antispecista rivendica un suo ruolo politico nella società riconoscendo l'azione politica come uno degli esercizi fondamentali utili al cambiamento socioculturale. Noi ci opponiamo allo specismo inteso come pensiero unico dominante nell'attuale società umana concepita come verticale e gerarchica. Una società basata sulla legge del diritto del più forte e sulla repressione del più debole. Una società che non ci piace, orientata alla difesa dell'interesse personale e del patrimonio, a discapito dei diritti, dell'uguaglianza e della solidarietà nei confronti dei soggetti universalmente più deboli. Noi non intendiamo semplicemente riformare la società umana. Il nostro obiettivo è quello di cambiarla radicalmente, eliminandone le spinte discriminatorie, liberticide, violente e autoritarie. Rivoluzionando la società attraverso l'abbattimento dell'ideologia del dominio che la contraddistingue e che ne promuove le prassi politiche. Le radici culturali, morali, filosofiche e politiche dell'antispecismo, quindi, possiamo ben dire che siano il frutto naturale nell'evoluzione delle lotte sociali dei più deboli tra gli umani per il riconoscimento dei loro diritti fondamentali. Noi siamo pronti a batterci per l'eliminazione delle discriminazioni dovute alle barriere di specie che riteniamo fittizie, barriere innalzate dall'umano per sottrarsi ai suoi doveri nei confronti della natura e delle altre specie. Chi si riconosce nell'antispecismo sarà altrettanto motivato a lottare per il riconoscimento dei pieni diritti dell'umano, a prescindere dal genere, dall'orientamento sessuale, dalle condizioni fisiche e mentali, dal ceto, dall'etnia, dalla nazionalità. L'ottica antispecista, pur essendo mutuata anche da quella della lotta dei diritti civili umani, presenta delle peculiarità e delle caratteristiche sostanziali. Essa, infatti, non prevede concessione da altri, ma si richiama al controllo delle attività proprie, alle attività della propria specie sulla base di principi di equità, giustizia e solidarietà nei riguardi degli altri animali. L'apertura all'altro, ovvero il riconoscimento dell'alterità animale, comporta quindi che le nostre azioni si pongano come obiettivo, in primis, quello della tutela degli interessi di tutti i soggetti senzienti e, nel contempo, il pieno riconoscimento dei diritti dei più deboli e svantaggiati tra gli umani. Noi ci sentiamo moralmente tenuti ad impegnarsi, nel quotidiano, contro ogni tipo di ingiustizia e di prevaricazione nei confronti dei soggetti svantaggiati, siano essi umani o animali. Per questo, crediamo che le attenzioni verso gli umani, verso l'ambiente e la terra, sono da considerarsi parte integrante della lotta per la liberazione degli animali, e viceversa. Noi non ci consideriamo abolizionisti, non avanziamo richieste di modifiche di leggi, norme e regolamenti, ma aspiriamo alla liberazione animale nella sua accezione più ampia del termine e tentiamo di applicare principi antispecisti alla nostra vita quotidiana. Soprattutto attraverso la pratica del veganismo etico, del consumo critico, inteso come metodo utile all'allontanamento definitivo dal consumismo, del boicottaggio di prodotti, del riciclo, del riuso e del riutilizzo di merci, beni e servizi, nonché di tutte le altre pratiche utili al raggiungimento del minore impatto possibile sulle altre specie animali, sulla propria e sull'ambiente. Per chi non fosse familiare con il termine vegan, questo è un termine coniato in Inghilterra da Donald Watson, la persona che, insieme a un gruppo di suoi contemporanei, fondò la Vegan Society a Londra nel novembre del 1944. I vegani sono coloro che cercano di escludere tutte le forme di sfruttamento e crudeltà sugli animali. Chi è vegan non solo non mangia né carne né pesce, ma neppure latticini, uova e miele, non indossa capi in pelle, lana, seta o pelliccia, non compra animali, non partecipa ad attività che contribuiscono a sfruttare questi ultimi. Chi è vegan respinge tutte le azioni umane che prevedono sfruttamento, tortura, uccisione di animali quali zoo, circhi, vivisezione, caccia, pesca, feste e corse con animali. La pratica vegana etica non è né un fine né uno stile di vita da seguire, bensì una filosofia di vita che interessa e permea ogni attività quotidiana di chi è la dotta, giungendo a modificare ogni rapporto sociale. Noi crediamo che il raggiungimento di una società umana liberata sarà ottenibile solo attraverso la lotta per la liberazione generale. Ogni visione riformista, conservatrice, gerarchica, reazionaria, repressiva o tesa alla tutela della conservazione dello stato di fatto attuale della società umana basata sui privilegi dell'antropocentrismo è da ritenersi aliena e antitetica agli assetti socioculturali cui miriamo. In tal senso è importante definire il concetto di dominio per comprendere, come si diceva in precedenza, quando la società umana diventa, di fatto, una società specista. Definiamo sfruttamento il controllo, totale o parziale, del ciclo biologico di un altro essere vivente, tale che questi perda la propria autonomia e venga così ridotto a risorsa. Laddove lo sfruttamento si esercita su un altro essere senziente, come negazione di ogni possibilità di rapporto o come riduzione o cancellazione dell'identità dell'altro, parliamo di dominio. Da questo punto di vista vanno considerate materialmente speciste le società umane che praticano l'addomesticamento della vita non umana in ogni sua forma e, pertanto, tutta la storia della civiltà fondata sull'allevamento e sull'agricoltura. Ma anche lo specismo come visione discriminatoria o ideologica sorge con la civiltà, con la costruzione di religioni antropocentriche e spiritualiste, in cui l'umano è posto come signore della natura in una posizione di privilegio assoluto. La storia della civiltà ci mostra infatti come lo specismo non sia solo una forma di discriminazione analoga al sessismo e al razzismo. Benché lo specismo non sia stato l'unica causa di tali sviluppi sociali, è certo però che senza lo sfruttamento materiale della natura non saremmo riusciti a creare il differenziale di ricchezza sociale ed economica che è, alla base, delle società classiste, sessiste e belliciste e, dunque, dell'intera civiltà. Così come è certo che, senza la riduzione dell'animale a natura inferiore, non sarebbe stato possibile realizzare meccanismi ideologici che riducono la donna, lo straniero o il diverso a esseri privi di spirito, dunque mera natura, entità quasi animali. Le oppressioni di specie, di genere, di classe e quelle razziali appaiono così strutturalmente connesse. La società umana stessa è tenuta insieme e definita da tali rapporti di esclusione e di sfruttamento dell'altro e questo altro è regolarmente l'oggetto di una prassi di depauperamento, a beneficio esclusivo di alcune categorie di soggetti. Si comprende, dunque, come la lotta contro lo sfruttamento animale miri ad eliminare il tassello fondamentale su cui è costruita tutta la civiltà del dominio. Non è perciò un caso il fatto che il movimento di liberazione animale in tutto il mondo abbia maturata una consapevolezza che lo spinge ad allargare sempre più il campo etico in cui si iscrive l'originario dibattito storico sullo specismo e sulla qualità di vita di tutti i soggetti senzienti. La filosofia antispecista si pone come un moto politico assolutamente indipendente, slegato cioè da logiche, pratiche e metodi pregressi. Rifiutiamo fermamente l'uso della violenza contro ogni vivente come criterio di lotta e ci riteniamo capaci di ispirare una prassi di trasformazione radicale dell'esistente. Quello antispecista è un movimento che nel momento in cui rivoluziona i rapporti interspecifici non può non trasformare anche rapporti intraspecifici. Per concludere, la nostra visione di una nuova società umana è quella di una società liberata dove potrà sussistere un nuovo tipo di rapporti individuali, rapporti paritari e solidali con le altre società di senzienti e, più in generale, di viventi. Per fare questo, dal punto di vista teorico, possiamo applicare le seguenti nozioni del filosofo Paul W. Taylor come efficace modello relazionale anche nell'immediato. Alcuni degli strumenti valutativi nuovi che noi accettiamo, come riferimento allo scopo di mutuare le contraddizioni che derivano dalla convivenza tra società tecnologiche avanzate e gli ecosistemi, sono i seguenti. Il principio dell'autodifesa Secondo questo principio è legittimo reagire solo ed esclusivamente se attaccati per proteggere la propria inculmità. Un atto di violenza può quindi essere concepito solo come estrema soluzione per difendere la propria vita. Il secondo principio è quello della proporzionalità, cioè, in qualsiasi rapporto intra- e interspecifico, prevalgono sempre e solo gli interessi superiori sugli interessi non fondamentali, a prescindere dalla specie animale di appartenenza. Il terzo principio, quello del minimo danno, sancisce che qualora non si possa evitare in alcun modo di fare una scelta di natura controversa, essa deve attuarsi mirando al minimo impatto sull'altro soggetto e, in generale, sulle altre specie animali. C'è poi il principio della giustizia distributiva. Questo è il principio da utilizzare qualora i primi tre principi non fossero assolutamente applicabili. In caso di parità di importanza di interessi tra individui o tra specie coinvolte, si deve agire per il bene della comunità di viventi terrestri, per la collettività, in modo imparziale e altruistico, così che prevalga il bene comune. Il quinto ed ultimo principio è quello detto della giustizia restitutiva. Qualora fosse assolutamente inevitabile arrecare un danno a un individuo o un'altra specie per soddisfare un'esigenza fondamentale, tale individuo o specie ha diritto a un risarcimento in modo da riparare al danno arrecato. Non esiste per noi una linea di demarcazione che pone l'umano da una parte e l'animale dall'altra, ma una molteplicità di linee che attraversano i rispettivi campi intrinsecamente eterogenei. Nei secoli di dominio umano sul resto del mondo vivente, queste linee che si intersecano hanno generato delle fratture le quali, dal nostro punto di vista, offrono a chi intende diventare parte in causa la possibilità di un rimodellamento della considerazione morale assegnata agli individui che popolano la terra e al territorio che ci alberga, sfuggendo così alla continuazione di celebrazioni autoreferenziali le quali, oltre che produrre carichi di miseria, di angoscia e di distruzione per tutti, ci stanno conducendo verso la catastrofe ambientale. Grazie.